ok sono arrivato adesso ma le fecce non hanno colpito ma dove sono andate le frecce non ho capito vai alle navicelle oh iso ha fatto quello che ti ha detto quando te ne sei andato l'ho fatto tre volte provissimo pure iso l'ha fatto provissimo iso perché da quando me l'hai detto ci ho provato e tutte le volte che l'ho fatto ci ho provato e si è riuscito va bene è bello ma anche quando ne hai fatto solo uno no quando ne hai fatto solo uno non l'ho fatto ok semplicemente scappi cioè non puoi fare nient'altro ma l'hai perriato ma solo da ma che tu vuol dire la navicella dove stanno le navicelle eh la navicella dove stanno le navicelle dai moce dai moce la famosa navicella dove sta la moce nera dai dai moce abbastanza deluso dalla stufa ah quale stanza questa guarda guarda ti vede però una navicella dai questa non vedi i crutch big dog è una navicella moce non sa vedere una basica navicella dai guarda via è il posto di navicella io non sto neanche guardando l'urien no cosa stai cucinando su se l'este stai facendo una bella tier zero beh il piano è quello sto facendo tipo delle silver di una mappa ah ma qua dentro non si può entrare c'è una mappa tipo che è divisa in capitoli ogni capitola ha le silver e poi c'è la golden totale che è tipo impossibile quindi dovete fare tutte le silver e poi la golden ah ho visto il video di swap slot però tipo non mi sembra molto cioè la prima non mi sembra molto no perché tipo i check point da beginner a grandmaster cioè il primo che ho fatto è beginning ma devi vedere il check point grandmaster è impossibile c'è la sigla però ci sono ricordi più che altro se da fare golden deve essere una merda perché hai tipo la parte grandmaster a fine golden si alla fine no ma infatti non penso sia umanamente fattibile da golden ma c'è roba che manca o almeno del silver e poi la farà ah non è proprio è impossibile io sono impossibile non è che è impossibile però cioè perché non puoi farlo cioè sarebbe mi ricordo cioè non penso che riesci a trovare una persona che può essere sottoposto in una roba del genere qua fu qua fu alla fine perché l'ultimo check point è veramente molto difficile no mi sembra a come e una run dovrebbe tipo 50 minuti ah forse sì ah allora vabbè eh ok te l'ha dato qualcosa alla fine eh no quindi non capisco perché però se ha schifato il diario che deve averlo fatto per forza ah ok ha finito di scaricare tra poco posso giocare al rock di te no no andartene ok vai un attimo davanti al foto no 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 perché ma fermati hai video del scusa pensavo dicessi a iso no vai da scena non ho capito ma quindi era davvero questo che intendevi con il posto delle navicelle certo c'era una navicella quindi si certo ma io non pensavo forse in serio eh iso puoi guardare appena poi puoi guardare la stream di iso di mochia appena poi iso puoi guardare la stream di iso iso non hai guardato non c'era posso fare questi nomi eh dai è troppo si si cambiate i nomi nel nostro nome così mi è più facile dai ma immaginatevi in un universo alternativo in cui zenrico non si chiamava enrico ma si chiama mario zen mario va bene è uscito no z mario z mario z mario z mario e tu vuoi imperiare questi attacchi ma guarda te ma guarda te ma io ho sbloccato una roba su engu ma non so che cazzo ma perché iso sta giocando in un gioco in 3d non è 3d non è 3d poi l'ho sbloccato eh si si ma ho guardato l'anteprima sembrava in 3d è in 3d ma non è in 3d è in 2.5 oddio qua mi chiede la matematica oh no su engu allora mi dice che la mia wandus bonus